Come dicevamo, la nave è salpata e al timone c'è Nicola Finco. Batte una grande bandiera con i simboli della Lega di Forza Italia, della rinata Democrazia Cristiana e di Italia Viva confluita nella coalizione di centro nei giorni scorsi. La candidatura è ora ufficiale e si può partire con la campagna elettorale, anche perché le sfide sono tante e insidiose per tutti i protagonisti di questa regata bassanese che ci porterà il voto dell'8 e del 9 giugno. E forse, chissà, anche il ballottaggio. È una sfida importante che nasce soprattutto attraverso una condivisione di idee e di progettualità. Noi prima di metterle in persona abbiamo messo i progetti e le proposte per la città di Bassano del Grappa, abbiamo trovato un'affinità tra di noi, abbiamo deciso di partire con questo progetto che è un progetto innovativo. La Lega è da sempre un partito che guarda il territorio e dialoga con il territorio. Con queste forze politiche abbiamo trovato una sinergia e abbiamo deciso di partire. Tante sono le proposte per far ritornare Bassano, città capofila di un intero territorio e nelle prossime settimane e nei prossimi mesi avremo modo di parlarne direttamente con i bassanesi. Al primo posto per Finco e la sua collezione viene la situazione in cui versa l'ospedale di Bassano e la qualità dell'offerta sanitaria per i cittadini del territorio, in linea con una riproposizione del ruolo di capoluogo che la città dovrà ricorcirsi addosso nei prossimi anni. Ma c'è spazio nel programma per le grandi incompiute bassanesi dal Tribunale a Santa Chiara, passando per il teatro e per i tanti temi caldi di questo ultimo periodo. Un programma da scrivere e costruire con la coalizione e con l'appoggio politico garantito dalla presenza in conferenza stampa del segretario regionale della Lega Alberto Stefani. Ci siamo, abbiamo presentato una candidatura forte, quella di Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale. L'ho ringraziato in questa conferenza stampa perché Nicola fa una scelta di coraggio, sceglie di candidarsi sindaco della sua città da vicepresidente del Consiglio regionale, quindi rinunciando possiamo dire anche a un po' di prestigio e un po' di trattamento, ma sceglie di candidarsi e assumersi dei rischi, delle responsabilità penali, civili e contabili. E quindi quando uno fa una scelta di questo tipo va ringraziato e credo rappresenti anche un esempio di buona politica. Sul molo, a osservare con il binocolo la nave che veleggia verso giugno, rimane qualcuno anche se è plausibile che ci sia ancora qualche altra cabina libera e a far salire a bordo nuovi compagni di avventura si fa sempre tempo. Ma forse qualcuno preferirà munirsi di mezzi proprii.